Ciao, siamo qui a Imola per il mondiale Superbike, va bene? E niente, oggi stamattina avevo la pole position, oggi pomeriggio nelle qualifiche, ho dovuto rodare il motore, visto che abbiamo pochi motore ho dovuto rodare il motore per la gara e diciamo che sono riuscito a fare solo un giro tirato, infatti sono stato fuori dai tempi fino a due minuti dalla fine, diciamo con la moto mi trovo bene, corro con la 11.99 Panigale e niente dai vediamo un po' domani per la gara come andrà.